e signori miei buonasera bentornati su watchdogs e siamo qua per l'ultima missione delle valigette le chiamo così in realtà è tipo il traffico di esseri umani se non vado errato mi sono dovuto fare tutte e dieci le le valigette sparse per chicago ovviamente ve le ho risparmiate per quanto riguarda recap l'abbiamo fatta insieme live e adesso andiamo appunto a fare la missione conclusiva di questa questa attività di indagini secondarie ok vediamo un po cosa ci chiede sto gioco i cittadini sono vulnerabili il dead sec può aspettare indagine traffico di umani traffico di umani figa magari è lì casa de marco è lì ok allora caprente all'appartamento di de marco madonna giocatori dell'inter mi perseguiscono così si dice anche fuori dal mondo del pallone raga incredibile c'è posso fa siamo a 7010 secondi per fa sta roba c'è sei veramente un infame però se sei un infame del cazzo te la pigli nel culo lentamente è un agente di polizia questo mi aspetto già tipo cantaneo tra l'izzato una cosa del genere tirato fuori di corsa la chi non vuole merda elimina de marco credo vogliono scortare di ma adesso ragazzi ridiamo e ridiamo non mi dire che il bersaglio si sta allontanando senza arte né parte ecco facciamo le cose fatte a modo tanto adesso lo neutralizziamo tranquilli tu madre certo io ho una macchina un pochino più veloce la potevo scegliere a dir la verità però oh che buono merda la volante merda il cambio ok va semplicemente investito ok fuggito dalla polizia beh oddio ok che hanno chiamato rinforzi ma tre quadratini stavo per dire un solo quadratino si sta ceppa di minchia ragazzi mi hanno colpito arrenditi e accosta subito arrenditi ce lo dici a tua sorella non vi preoccupate ragazzi verremo al dunque tanto qualcuno è stato fatto fuori che bello quando sento queste cose civile ferito fuori qualcun altro forse si godo fuori qualcun altro no oh yes baby rimane solo l'elicottero bene merda la volante vi siete voluti mettere contro Aiden Pierce mo son cazzi i vostri sparito godo io farei una cosa molto democratica raga sparire in mare a volte è veramente la soluzione però forse si può evitare facendo così easy uscire fuori dal cerchio e svegnarsela e ragazzi punto abilità ottenuto ne abbiamo tre ma oddio forse qualcosa si scansione i sito es per i nemici va bene tanto prima o poi andava preso missione è completata e andiamo avanti e anche la 43esima parte di Watch Dogs si chiude qui spari e quindi e quindi è andiamo a